È stato pubblicato un bando da 19 milioni di euro per i comuni montani e parzialmente montani della Sicilia, finanziato dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Il bando è destinato a combattere lo spopolamento e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree montane. I fondi possono essere impiegati per informatizzazione, potenziamento dei servizi essenziali, valorizzazione del patrimonio e manutenzione delle strade. I comuni devono presentare progetti entro 45 giorni dalla pubblicazione e sono previsti incontri informativi a Palermo e Catania.